secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie si calma stavo urlando è meris e l'irum vuol dire follia io no 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 mamma mia no senti l'impostatrice per rivivere il momento sono proprio legati aspetta caro vedi che ti ho preso la pelle ok scusami scusa ti pazzano un pochino ok grazie per questo momento stop live? minchia mi fai leggere un attimo la chat in piccolo momento come provo la chat voglio leggere cosa scrivo sento disagissimo in questo momento non stiamo vedendo niente non stiamo vedendo la chat no zio c'ho mille robe oooo aia il pene uuuu mamma mia il pisello fu vola il boccato mi sa che ha inventato un pezzo della cover dentro il buchino della pipì dopo ci sarà qualcuno che ti farà un massaggino no 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 sono io Sì, hai mai fatto sesso con Roberic? No È vero Ripetila, ripetila Hai mai fatto sesso con Roberic? No Io sono un pollo Eh sì, non ho mai fatto sesso Te lo dico, sono un pollo A chiamarmi il capo di coglione Ma devi dare la gente quando mi ferma Hai fatto sesso con Roberic? Dico che stai dicendo la verità, bro Non ho fatto mai sesso con Roberic Ma la gente mi percula in giro Quando mi dico no Mi fanno No, 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 è vero Che coglione Tu l'avresti fatto? Maggio Lei non l'avrebbe fatto Scusami, vai avanti Pensi che lei abbia fatto sesso con te? Sì Poi non lo so Non lo so in realtà perché Secondo me magari Lo faceva per provocazione Magari in realtà no Quindi non lo so Ok Non lo so Comunque un saluto a tutte le persone qui Infatti secondo me quando è sottocarica Non dà problemi Ma è Halloween oggi? No No Quando è Halloween? È il 31 È il 31 Andrete a fare dolce Ma è qualcuno che sta alla camera con te? Io ero proprio affamata di cazzo E lui non ha voluto darmelo Non fare molto serio Il signor sull'adesta sta trajardando su Rocket League Perché? Chiedono se sta trajardando su Rocket League Non lo penso Non lo penso Non lo penso Se la sua destra è io Sì Se sta trajardando su Rocket League Ah no no Poi andate pure a Ti chiedo su Allora Grazie Eh Ok Sento una maiala No Indipendentemente da tutti i commenti Questa era bella Questa era bellissima Ma adesso sia prego Perché non credo sia nemmeno il contesto No? Per scherzare in questo senso Visto che parliamo di una tragedia Una tragedia per una famiglia Una tragedia per delle persone Che sono state mandate al pronto soccorso Riprendo un attimo quello che diceva prima Matt Carus Ovvero Le istituzioni non avevano alcuni Secondo loro la vita degli animali Vale quanto quella degli uomini Ora se ciò fosse vero Non ci sarebbe alcuna ragione Per la quale la vita di alcuni animali Dovrebbe essere più valida La vita di altri animali Ora io oggi ho ucciso quattro d'andare Ciò mi renderebbe un mostro No? Un assassino Il che è evidentemente falso Ma scusate Chi è che dice che la vita degli animali Vale come quella degli umani? Scusate E ti piace La musica che produci? Assolutamente sì Ok Dai gusti Ok Recentemente Ancora congratulazioni Jody Simone Per Mamma che gaccia No no Ho sbagliato a parlare Scudimi Recentemente Hai suonato E cantato All'arena di Verona Oltre alle canne La marijuana Il fumo Eccetera Solite robette Hai mai assunto Qualche sostanza stupefacente? Solo canne Posso dire anche delle robe Allora La prima cosa che vorrei dire È Che finalmente Oh grazie Henry Per gli abbonamenti No così sembra che sto facendo Adesso per gli abbonamenti Ma in realtà Poi devo fare un live Per dirvi che ho Per finalmente pronto Un gruppo telegram E ora sono lo mando Grazie Gesù Giusu Grazie Henry Grazie Marta degli Uno Grazie Cessuto e Siringa Grazie Snecola Non ci abbratti Perché non Ciao Ah gli altri sono doppi Cazzo Mi chiedo scusa Non so come risolvere Figa Ma per là Dì parole Ma per là Ovvio non ti tolgo Giù troncati Non ti tolgo Picca non ti tolgo Dezzanna non ti tolgo Parte di Dezzanna Oggi attenzione Ha annunciato Che non guardavo la mia live Grazie Jimmy Gimmose Per i quattro Grazie Afo Grazie mille per i dodici Grazie mille C'è gente che avvisa Che va in live C'è gente che avvisa Che scama la live C'è gente che avvisa Che non sarà presente Alla live di un altro stream Dezzanna è una grande Una grandissima Dezzanna Veramente Grazie Opla 1899 Grazie mille Grazie mille Yvi anche tu resti Ovviamente hai donato Un sacco di sub Sì Dagli lo don Mi è bella sereia Direi Ok Karen Adesso Mettiti pure comoda Perché Ti sistemeranno Ti collegheranno Karen hai visto Hai visto com'è andata con Simone Sì Sono stato troppo buono Sì Con me sarai cattivissimo Mi sono oggi la fa stronza Secondo te sono stato Sennò la sono po' spesso Ok Oh scusa Vai Che devo fare Che cosa metto Non lo so Eh metto Ciao Metto quello base No Ombre Uncigiorno Auto Ciao Oh ho risolto Primo abbonamento Comprime Dico solo 14 mesi consecutivi Dario Mi sa che ho risolto Sono ragazze Che La vedono troppo Come una scorciatoia Che non Che secondo me Non apporta niente A loro come persone Chiaro Possiamo mandare un saluto A No 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 Non Mary No 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 Tutte Tutte Le Canne Mary Tutte Troie Tutte E dai Sam Una volta Allora Mossellina Noi pianeti Allora Kraven Eri tu La ragazza Del Trisum Con Jody E Simone Sì Pussi Questa è la regola Che secondo me non vale Invece vale Vaffanculo Simone può rispondere A non rispondere A due domande Però Mi danno Mi dicono Dalle regioni Ho un po' paura Di rispondere Come E beh cazzo Non rispondo Paura sì Che è un coglione Ti ho aumentato Il battito cardiaco Eh Ok Simone Hai fatto sesso Con più di 15 Ragazze Nella tua vita E' un po' paura E' un po' paura